Il terremoto deve occupare una fede importante della nostra attività, ma ci sono tutta un'altra serie di attività che devono andare avanti, che devono proseguire e non possono proseguire se non c'è una rivisitazione della governance politica, se non c'è una rivisitazione della governance amministrativa. Noi sappiamo che adesso nel prossimo decreto ci sono 700 nuove assunzioni per tutto il fratere, non so quando ce ne toccheranno a noi, ma sicuramente un numero che va da 6 a 8, avremo la possibilità di assumere nuovo personale anche con qualche figura picale, perché questo ci viene permesso e concesso e quindi daremo anche una svolta per quanto riguarda la rivisitazione della macchina amministrativa.